Il comune di Cesena sempre più attivo in Europa. Il 3 novembre sarà ammesso in qualità di partner associato al forum Ambiente di Eurocity, la rete di città più conosciuta ed influente sul piano delle istituzioni europee. La rete è costituita da 140 comuni appartenenti a 34 paesi d'Europa e sostenuta da una cinquantina di partner associati. In Italia aderiscono Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. La candidatura al forum Ambiente è stata presentata in giugno 2010 ed è stata accolta anche grazie al sostegno del comune di Genova che ha difeso il ruolo di rilievo dei piccoli e medi comuni nel panorama italiano. Cesena sarà chiamata a partecipare ai meeting della rete che si tengono a turno nelle diverse città aderenti. Il prossimo è programmato a Genova ad aprile 2011 per dialogare con le più grandi città d'Europa sulle emergenti questioni ambientali. Avrà quindi occasione di contribuire allo sviluppo di una visione comunitaria di futuro sostenibile e alla programmazione di azioni di interesse comune. Il comune potrà migliorare la sua capacità di influire sullo sviluppo di nuove politiche volte al risparmio energetico, alla salvaguardia dell'ecosistema, alla riduzione dei consumi e delle emissioni di sostanze inquinanti. Sarà coinvolta fin dalla fase di ideazione nell'organizzazione di campagne pubbliche di rilievo internazionale promosse da Eurocity e mirate ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sui problemi riguardanti l'ambiente.